Sono tendenzialmente stabili i dati relativi agli infortuni sul lavoro in Toscana. Le denunce del periodo gennaio-luglio crescono di poco oltre il 2%, a fronte però di un aumento di 46.000 occupati su un totale di 1.650.000. Il maggior numero di infortuni nel settore delle costruzioni e in sanità, 31 gli incidenti mortali, 2 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma il confronto tra il 2023 e l'anno precedente vede una significativa diminuzione sia di denunce sia di infortuni mortali. Continua invece a crescere il dato relativo alle malattie professionali, aumentato di oltre il 20% nei primi sette mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023. Dati diffusi dall'Inail, il cui intervento non si limita alle statistiche. La filiera che preside all'Inail parte dalla ricerca sui nuovi materiali, sulle attrezzature, sui macchinari, poi tantissima prevenzione. Mettiamo a disposizione delle aziende anche ingenti investimenti, quest'anno ad esempio 500 milioni per acquistare apparecchi e procedure aziendali che devono sicurezza, poi tanta formazione. C'è poi l'assistenza ai lavoratori infortunati, con ambulatori, strutture sanitarie e di riabilitazione e reinserimento al lavoro. Importanti anche gli investimenti sul territorio toscano. Insieme alla Regione e alle Asle della Toscana abbiamo un programma, che da poco diventerà un decreto, per un miliardo di investimenti in ospedali e strutture sanitarie. E poi stiamo realizzando, come è accaduto poche settimane fa, in provincia di Pisa, anche scuole ed edifici di pubblica utilità. Quindi restituiamo ai territori anche investimenti importanti di attore immobiliare e per le attività sociali.